Mark Basile Hey, hey, hey Ok, io tutto Fate pure quel poco di monitor che dovete fare per Andrea Arcangeli Io vorrei proporre un applauso a tutte le band che si sono alternate qui stasera con noi sul palco Dalla forte Siamo i TGM Veniamo un po' da Roma, un po' da Napoli, un po' da Rimini E il prossimo pezzo è il nostro primo singolo tratto da The Passage che potrete trovare lì in fondo nel nostro merchandise, questa è Animal!